Voga 2016, l'ultima cosa che ti ha fatto ridere di gusto. Ora, su YouTube ci sono dei canali che mi fanno sempre ridere tantissimo, come John Oliver o Channel Awesome, e in questo caso mi riferisco proprio a Channel Awesome, ma alla classica Nostalgia Critic, perché le puntate di Nostalgia Critic mi fanno sempre ridere tantissimo, ma questa nonostante la lunghezza credo sia più di 30-35 minuti, forse anche 40 minuti, l'ho dovuto mettere in pausa tantissime volte, perché proprio c'erano momenti che mi mancava anche il respiro, e se non l'hai vista questa te la segnalo, è la recensione di Nostalgia Critic di Jurassic World. Te la lascio sul doobly-doo, la trovi anche sulla scheda, dagli un'occhiata, è divertentissima. E tu, invece, qual è stata l'ultima cosa che ti ha fatto ridere proprio di gusto? fammelo sapere con un commento qua sotto. Io sono Grizzly, questo è Voga 2016, noi ci vediamo domani.